La scrittura ha detto, questi dati che lo siamo citati, da alcuni inizierà, dovete, in questi tempi della Repubblica Promete del Sistema, la Sansegna Registri ha portato a Pioca di Pioca di Pioca e, per questo che è molto, abbiamo inseritato, inseritato, per questi dati. Il Bordone è una città dalle origini antinistiche, si trovano molte fracce e c'è forse, perché il Bordone fu l'Ucumonia, la Cicca, il VII secolo di Cristo, fino alla conquista di Roma, qui ritiene il Bordone, che era il commentatore, che poteva essere una città stagia, che si trovano molte fracce e poi le diretti. Però, oggi è una parte, la Pogheg, il Bordone fu l'Ucumonia, che è citata da Vincitio del Sistema, quando parlo del generale di Poghegore, del Sistema, del Vecicolo di Poghegore, che dice che il senso del Bordone sta stato che partì proprio da Poghegore a Poghegore, che racconta adesso, è con questa presidenza d'arca, vuol dire che ha un'unità stagia, quindi, quando ha una presidenza, scarsa, non è da qui, come per tutto, dov'ho visto, in aprile, in mani destra, in mani destra, in mani destra, in mani destra, in mani destra. A presto, in mani destra, in mani destra, in mani destra, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.